che ci impedirà di fare il nostro dovere, però che dislippa, che sfortuna per i bambini avere un papà e una mamma. Un lungo silenzio, segui questa riflessione, il Brambilla, rinascondendo il tesoro sino al giorno della nuova dichiarazione di guerra. Ognuno pensava alla sua bastonatura e mentre ridiscendevano fra i cespugli dell'assalta, il Crippa, molto commosso, e pieno della malinconia della neve prossima e forse anche del presentimento delle illusioni perdute, lasciò cadere queste parole. Pensate che quando saremo grandi, forse, diventeremo anche noi bestie come loro. E' la conclusione del romanzo, questo è il romanzo. Martina. Allora, io volevo fare un salto praticamente in avanti rispetto a quello che hanno raccontato Anselmo e Walter, perché avrei preso in considerazione invece il tema delle bande a partire proprio dagli anni Ottanta. Quindi una letteratura per ragazzi, anche se con qualche eccezione tra i libri che vedremo, contemporanea. E innanzitutto, diciamo, la premessa che è da fare è che in qualche modo questo tema non ha grande spazio nella letteratura contemporanea per ragazzi. Proprio, diciamo, la causa di questo è abbastanza evidente, perché sono le stesse bande di ragazzi a non avere spazio nella realtà di tutti, insomma, di oggi. E si ripropone quello che già Molnar additava come, ovviamente, un grosso limite per i ragazzi, cioè la mancanza degli spazi. Questo è ovviamente evidente al giorno d'oggi, dove quelle che erano le strade, i viali, i gretti dei fiumi, non sono più, hanno perso completamente la loro connotazione ludica, anzi sono diventati spazi che consideriamo esclusivamente pericolosi, anche giustamente pericolosi da certi punti di vista, ma ovviamente questo ha portato ad una limitazione anche dell'autonomia dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi che ora non escono da soli, almeno fino all'età dell'adolescenza. Tutto questo, ovviamente, ha avuto conseguenze anche sulla letteratura, sull'immaginario. E infatti, diciamo, osservando proprio l'ultimissima produzione editoriale per ragazzi, si nota come questo tema, da un certo punto di vista, è assente. O meglio, non proprio assente, ma si è evoluto in maniera molto diversa, anche a seconda dei generi di romanzi che prendiamo in considerazione e ha subito moltissime mutazioni. E diciamo che gli elementi che ci permettono di prendere in analisi questi libri sono principalmente, come dicevamo, quello degli spazi, il problema degli spazi, i giochi e le attività, che sono anche questi molto cambiati proprio a causa della mancanza degli spazi, le attività del tempo libero, i giochi, si sono dovuti riadattare a luoghi chiusi e spesso ad attività che sono molto più solitarie e indipendenti. Anche il videogioco, la console, che spesso si condividono magari anche con un fratello, un amico, però poi diventano attività estremamente solitarie. Quindi questo è andato ad influenzare anche un altro elemento che vediamo costante in tutti i libri, in tutti i libri che parlano di ragazzi e di bande di ragazzi, cioè i rapporti, i rapporti interpersonali tra ragazzi e anche tra i ragazzi e i genitori, che è un altro tema molto importante, un altro elemento molto importante. Quindi, dicevo, una sostanziale diminuzione del tema nei libri per ragazzi, a partire dagli anni Ottanta, dove praticamente nei libri questo tema scompare del tutto. Soprattutto non viene raccontata l'infanzia attuale, cioè difficilmente abbiamo dei libri che raccontano cosa fanno i bambini degli anni Ottanta. E paradossalmente però il tema delle bande di ragazzi, dei gruppi di ragazzi, torna al cinema. In questo periodo vengono, insomma, ci sono diversi film che parlano di bande di ragazzi, molto spesso rifacendosi anche a dei romanzi e dei racconti, che però anche qui non raccontano dell'attualità ma vanno a ripescare ricordi del passato. E in questo caso, per esempio, abbiamo nel 1986 la trasposizione di un racconto di Stephen King, che è Il Corpo, e la trasposizione cinematografica Stand By Me. E in questo film, in questo racconto, si parla proprio di una banda di ragazzi, una banda di ragazzi americani, quattro ragazzi, che hanno una missione, andare a trovare, cercare appunto, attraversando questo lungo bosco, il cadavere di un ragazzo che è sparito. Hanno saputo che c'è il corpo di questo ragazzo nel bosco e vogliono raggiungerlo. E questo, diciamo, è l'obiettivo che li unisce in questa sorta di missione. La particolarità però è che questi ragazzi non vivono negli anni Ottanta, ma negli anni Sessanta, nell'estate del 1960, che viene raccontata proprio dalle parole del narratore, che è uno scrittore adesso e quindi racconta questa sua avventura. E qui, diciamo, abbiamo proprio tutti gli elementi che poi ritrovavamo anche nei ragazzi della Via Pall, come anche nella Guerra dei Bottoni. Cioè, innanzitutto, l'idea di un gruppo variegato, un gruppo di bambini che hanno in comune solo il fatto di, cioè hanno in comune questa grande amicizia, il fatto di vivere in uno stesso quartiere, in uno stesso paese, però che sono molto diversi fra loro. E come si rendono conto loro stessi nel corso di questa avventura, passata quell'estate, in realtà non avranno più niente in comune. È l'estate prima della prima superiore, dell'inizio delle superiori e quindi questo periodo segna proprio una linea di confine dopo la quale praticamente le loro strade si divideranno. E quindi, un po' come leggevamo prima nelle citazioni di di Walter. E quindi, innanzitutto, questo. Dicevamo, appunto, del gruppo variegato, così come variegato, è anche il rapporto che hanno con i genitori. E proprio qui ritroviamo quel distacco che c'è tra l'universo dei bambini e l'universo degli adulti, dei genitori, che era caratteristico anche dei libri del passato. Cioè, da una parte ci sono i ragazzi con i loro problemi, dall'altra gli adulti, che magari devono affrontare anche problemi molto seri. La rielaborazione del lutto, come anche dei problemi di alcolismo. Addirittura uno dei genitori è un veterano di guerra che soffre delle conseguenze di questi combattimenti. e, nonostante, ovviamente, questi siano problemi che si riflettono anche sulla condizione dei bambini, in realtà, diciamo, non vengono affrontati insieme, ma completamente, in maniera completamente separata. E questo è un tema che, comunque, tornerà e si evolverà anche nei romanzi ancora più vicini. E, sempre, vabbè, rimanendo sempre su un altro racconto di Stephen King, questi temi poi li ritroveremo anche in un altro libro di Stephen King che è stato trasposto, cioè IT, dove però il tema dell'amicizia del gruppo di ragazzi, in realtà, è nascosto, in qualche modo, dalle atmosfere horror, da queste suggestioni diverse. Un altro film che esce in questo periodo è I ragazzi della 56esima strada. Qui si parla di una vera e propria guerra fra bande, bande rivali, diverse anche da un punto di vista sociali, e anche questo film è tratto da un libro. Un libro che, però, è del 1967 di Susan Hinton e che è stato pubblicato anche in Italia da Mondadori con il titolo di Ribelli. E qui abbiamo una vera e propria guerra tra bande, dicevo, però anche qui non si parla dell'attualità. Invece si parla di una banda di ragazzini degli anni Ottanta in un altro film che invece è molto più di intrattenimento e non è tratto da un romanzo, cioè I Goonies nel 1985, un film Disney, anche dai suggerimenti un pochino più ingenui, ma comunque dalla trama coinvolgente che è diventato un film famosissimo soprattutto in America ma anche in Italia, e qui abbiamo appunto l'avventura di questi ragazzi alla ricerca di un tesoro. Però, da un punto di vista del romanzo per ragazzi, il tema della banda viene proprio lasciato da parte. Una prima eccezione è quella rappresentata dal Grande Gioco di David Almond. Qui abbiamo questo libro che è uscito in Italia nel 2001, invece in inglese era stato pubblicato nel 1999, e qui diciamo il tema della banda è affrontato in maniera solo collaterale, nel senso che l'elemento che ci interessa qui è il rito, il rito con cui viene accolto nella banda e nel gioco che questa banda fa il ragazzo protagonista Kit. E qui abbiamo questi ragazzi che si riuniscono, torna l'elemento dei luoghi, dei luoghi simbolo proprio di una determinata fase dell'infanzia, e questi ragazzi si ritrovano in un cunicolo praticamente, una piccola caverna ricavata dagli antichi condotti delle miniere, e qui fanno questo gioco della morte, una sorta di gioco della bottiglia più macabro dove viene girato il coltello e il bambino individuato dovrà essere lasciato in questo luogo da solo e affronterà la morte, in qualche modo morirà. Ovviamente è un gioco dove questi bambini muoiono per finta, però in realtà assistono o sperimentano una sensazione molto particolare. Però anche qui non c'è tanto il tema del gruppo e della banda, i protagonisti veri e propri sono solo due bambini, il protagonista Kit e il capo di questo piccolo gruppo, che si confrontano costantemente. Il gruppo rimane in realtà molto in disparte, sullo sfondo. Dobbiamo arrivare al 2009 per avere un esempio vero e proprio di banda di ragazzi, e abbiamo un romanzo svedese di Michael Engstrom, che è la banda del cane a tre zampe, uscito per Salani. E qui ritroviamo tantissimi di quegli stilemi che abbiamo visto con la guerra dei bottoni, con i ragazzi della via Pall. Abbiamo la lotta fra i ragazzi di due strade diverse, via dell'industria e via della colonna, che appunto ingaggiano una vera e propria guerra, suon di pistola ad aria compressa, risse e anche partite di pallone, in realtà anche niente di troppo violento. Però appunto in questo libro ci viene raccontata più che altro anche qui la storia di tre bambini che fanno parte di una di queste due bande, quella di via Colonna. In realtà questi tre protagonisti sono talmente tanto ingenui, in realtà combinano continuamente disastri, tanto che non riescono ad avere neanche l'alleanza, non riescono ad avere più di tanto neanche l'alleanza degli altri ragazzi di via della colonna, quindi si ritrovano molto spesso contro sia via dell'industria che via della colonna. Però questo romanzo è molto interessante innanzitutto perché di nuovo si torna al luogo strada, la strada che diventa appunto lo spazio di gioco. E anche un altro elemento caratteristico dei luoghi, cioè tutti questi ragazzi, come nei ragazzi della Via Palla, nella guerra di Buttoni, hanno una sorta di rifugio, oltre alla strada che è terreno di gioco hanno un luogo che li caratterizza in particolare. E nella banda del cana a tre zampe è una discarica, tra l'altro una discarica è un elemento che troviamo anche già nel corpo di Stephen King. Questa discarica diventa il loro parco giochi, quindi anche qui un luogo ovviamente pericoloso, ma dove loro si recano tutti i giorni per giocare alla guerra contro il Giappone. Quindi salgono su questo, sui resti di un aeroplano o giocattolo praticamente proprio parecchio grosso e giocano a bombardare Hiroshima, quindi un gioco anche qui piuttosto macabro, ma che li unisce e costantemente si litigano proprio il ruolo del pilota, dello sganciatore di bombe e appunto tutti i giorni fanno questa attività, oltre ovviamente ad essere impegnati nella guerra di quartiere. Qui anche molto importante torna il rapporto tra i genitori e i figli, anche qui abbiamo proprio due universi separati, in questo diciamo, questo romanzo della banda del cana a tre zampe ci ricorda moltissimo gli esempi classici di cui parlavamo prima, perché anche qui proprio c'è una completa disparità, c'è una separazione netta, talvolta proprio per una sorta di disinteresse degli adulti che sono impegnati anche qui con problemi comunque molto gravi e non si occupano più di tanto di quello che è il tempo libero dei figli, non in senso estremamente negativo, è proprio come se ovviamente queste attività, le attività degli adulti e quelle dei ragazzi fossero completamente separate. E qui per esempio proprio la disparità tra ragazzi i genitori si nota nelle pagine del romanzo si legge per esempio il discorso del nostro protagonista e narratore Dogi che afferma di conoscere la strada, conoscere ogni luogo del quartiere benissimo, potrebbe girarlo bendato, mentre questa è una capacità che assolutamente i genitori non hanno. E infatti dice, gli adulti non erano i padroni della strada, non apparteneva a loro, non conoscevano le crepe nell'asfalto, i vari strati che si erano accumulati con l'ambicendarsi delle riparazioni o la posa di nuovi cavi. C'erano delle zone completamente lisce e altre tutte bitorzolute, dove non era passato il rullo compressore quando era stato fatto l'asfalto. Gli adulti non sapevano niente dei tombini, né quanti erano né di che tipo, non conoscevano i cordoli dei marciapiedi tutti diversi, con i raccordi a volte stretti e a volte rarghissimi. Alcune parti del cordolo erano state mandate in briciole dal passaggio dello spazzaneve e poi le rastrelliere delle biciclette, alcune erano contorte, altre completamente rotte. C'erano diversi lucchetti che si erano semplicemente chiusi per non aprirsi più ed erano lì da anni. Gli adulti conoscevano soltanto l'odore della propria scala. Dogi distingueva gli odori di ogni portone. Se qualcuno gli avesse bendato gli occhi e lo avesse portato in giro in una scala dopo l'altra, lui avrebbe saputo dire a che numero civico si trovava. E qui subentra un tema che poi troveremo anche nei romanzi ancora più recenti. Progressivamente si passa dalla lotta tra bande, quindi alla lotta tra ragazzi, ad una contrapposizione netta invece tra bambini e adulti. In questo caso c'è la contrapposizione ma non c'è un vero e proprio scontro, più avanti invece negli altri libri che vedremo si arriva proprio ad uno scontro, ad una vera e propria guerra. Infatti diciamo che a partire dal secondo decennio del 2000, quindi in anni recentissimi, ha preso sempre piede quello che chiamiamo il romanzo distopico, che poi è un genere in realtà non così nuovo, perché a partire da 1984 ci troviamo di fronte a questi romanzi in cui si vivono le conseguenze di una grave catastrofe, una catastrofe che può essere politica, può essere sociale, può essere naturale. E ovviamente i personaggi protagonisti si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa catastrofe. E vediamo come per esempio una delle conseguenze è proprio anche l'aggregazione, l'unione di bambini che altrimenti trascorrerebbero un'infanzia anche solitaria, autonoma, e invece trovano in un obiettivo comune, che può essere il contrasto contro insegnanti, genitori o comunque contro un nemico, un ostacolo, trovano un motivo di unione. E questo perché diciamo, come dicevamo, le attività dei ragazzi sono diventate sempre più solitarie, autonome, per cui ci deve essere un vero e proprio motivo aggregante che non sia magari la semplice amicizia. Non solo, diciamo che in questi romanzi che andremo a prendere in considerazione non è cambiato solo il rapporto tra i ragazzi e il nemico che devono affrontare, ma anche i giochi, le attività che fanno non sono più giochi fatti insieme, ma spesso sono sfide più che tra ragazzi sfide con se stessi, sfide di sopravvivenza o sfide di abilità, a partire dalle attività più semplici, per modo di dire, come possono essere le gare o le evoluzioni con lo skateboard oppure il parkour, quindi l'arrampicata urbana. E appunto uno dei romanzi che ci parla proprio, un romanzo distopico, che ci parla di un gruppo di ragazzi uniti quasi per caso da un obiettivo comune, è Bambini nel bosco di Beatrice Masini. E con questo romanzo, in questo romanzo, il gruppo si forma quasi forzatamente. Qui ci sono dei ragazzi che sono dei bambini, anzi che sono orfani, e vivono, sono costretti, a causa appunto di questa catastrofe probabilmente naturale che non viene però spiegata nel dettaglio, a vivere in questo campo, che è un grosso orfanotrofio dove i ragazzi sono divisi in piccoli gruppi, c'è un capo di ogni gruppo e devono trascorrere la loro vita in questo campo, in questa base, diciamo procacciando il cibo, comunque anche lottando fra di loro per avere dei piccoli premi che gli adulti somministrano ogni tanto. E l'altra cosa particolare è che gli adulti in realtà li tengono in questo campo quasi per volerli proteggere da quello che c'è fuori e per proteggerli somministrano loro anche una medicina che li fa dimenticare gli orrori della catastrofe e tutto ciò che è stato precedente alla catastrofe, per non farli soffrire non li fa ricordare. La situazione cambia quando uno di questi gruppi si ribella, o meglio più che ribellarsi decide proprio di fuggire, di fuggire nel bosco che circonda la base e la spinta a fuggire lo dà tra l'altro un libro, un libro di fiabe, un libro delle fiabe dei Grimm direi, che è per loro una grande sorpresa perché in questo loro nuovo mondo i libri non esistono più, non ne hanno mai visti, solo uno dei ragazzi che ha smesso di prendere di nascosto ovviamente la medicina ricorda che cosa sono i libri riesce addirittura, ha recuperato anche la capacità di leggere e quindi qui subentra proprio anche questo potere della lettura, della scrittura che unisce questi ragazzi nel momento in cui il più grande inizia a raccontare le storie anche i più piccoli e i più piccoli anche se non recuperano ricordi però iniziano a recuperare la fantasia e la voglia di immaginare e questo li spinge a voler fuggire. Fuggono nel bosco e quindi a questo punto abbiamo l'avventura di questa piccola banda che però appunto si è trovata quasi per caso unita e qui ovviamente per quanto riguarda gli spazi veri e propri ci troviamo nel bosco che è un luogo misterioso per eccellenza, è il luogo delle fiabe quindi questo ovviamente è importante anche per la narrazione, i ragazzi non hanno un vero e proprio rifugio perché stanno ovviamente fuggendo e ad eccezione di una piccola casa, una capanna che costruiscono ma che poi devono abbandonare in realtà si trovano in questo spazio aperto e anche le loro attività, i loro giochi, prima nella base non facevano praticamente alcun gioco se non lanciare degli ossicini, si trovano ovviamente a confrontarsi anche con queste attività così libere e da una parte la dimensione del gioco coincide anche con la loro sfida alla sopravvivenza perché ovviamente per i più piccoli anche andare a cercare il cibo, anche andare a caccia o raccogliere le piante diventa un gioco, dall'altra il gioco inteso più proprio come svago coincide con la lettura perché il momento di aggregazione, il momento in cui si ritrovano tutti questi ragazzi è proprio intorno al libro intorno alla lettura. Qui ovviamente il rapporto genitori figli viene meno nel senso che gli adulti fanno ovviamente una pessima figura e limitano in realtà la libertà dei ragazzi pur avendo delle buone intenzioni e questo poi è un tema che torna nei romanzi distoppici dove gli universi di adulti e bambini dicevo sono in contrapposizione ma sono in contrapposizione non tanto per disinteresse degli adulti ma spesso per il troppo interesse che gli adulti hanno nella vita dei bambini cioè i genitori sono impegnati ad essere genitori perfetti di figli perfetti quindi cercano di correggerli, di difenderli sono coinvolti in tutti gli ambiti al contrario di quello che vedevamo nei ragazzi della Via Palla dove non c'era proprio questo coinvolgimento le attività del tempo libero dei bambini quasi non interessavano giustamente agli adulti e invece qui c'è un interesse totalizzante che li porta a commettere errori, a commettere azioni che possono essere nocive per i ragazzi come appunto voler far dimenticare loro qualunque forma di dolore e l'unico momento in cui i genitori e figli vengono a contatto è quando proprio i genitori si recano al campo, alla base per cercare di, per adottare dei bambini fingendo talvolta di riconoscere tra questi i loro figli una prospettiva invece diversa ma con tante analogie è quella dell'ultima possibilità di Seita Parcola un romanzo finlandese in cui ci viene raccontato invece l'avventura diciamo di questi ragazzi che frequentano una scuola correttiva che sotto in realtà l'obiettivo di voler correggere questi ragazzi impossibili, dare loro quest'ultima possibilità in realtà li sottomette completamente e qui il protagonista, Borea, narratore, capisce che ha davanti a sé solo due alternative o diventare appunto parte di questa scuola, sottomettersi oppure fuggire e decido ovviamente di fuggire cercando di unirsi al gruppo dei ragazzi perduti questi ragazzi perduti sono appunto ragazzi che sono fuggiti dalla scuola anche qui una banda che si è venuta a formare per la necessità di fuggire dagli adulti e dagli insegnanti quindi anche qui cambia la prospettiva e questi ragazzi perduti tra l'altro passano il loro tempo proprio ad allenarsi per la guerra in una fabbrica abbandonata che è il loro spazio appunto e qui per esempio fanno appunto gare con gli skateboard si allenano anche per fare questi enormi graffiti contro la scuola quindi la prospettiva è ancora ulteriormente diversa si perde completamente l'idea di una collettività e di un'alleanza che è fondata esclusivamente sul contrasto in realtà contro la scuola insomma con la scuola quindi questo anche ovviamente il rapporto con i genitori cambia completamente come dicevo i genitori sono figure assenti una volta che hanno affidato i figli alla scuola correttiva spariscono non per loro volontà ma perché proprio la scuola ha progettato anche per loro un'attività secondaria e pertanto diciamo però spariscono ma con la coscienza a posto con la coscienza pulita perché hanno affidato i loro figli in una scuola dove li potranno rendere migliori quindi l'eccessiva preoccupazione che tutto sia perfetto che la loro vita sia perfetta in qualche modo è esaudita quindi c'è questa attenzione estrema e diciamo che con questo libro si assiste completamente alla vittoria assoluta della dimensione individuale ovviamente portata all'eccesso che è poi lo scopo dei romanzi distopici che cercano proprio di portare all'estremo condizioni che poi oggigiorno magari non viviamo ma che da certi punti di vista a cui rischiamo di avvicinarci e quindi direi che questo è quello che più rappresenta le bande dei ragazzi nella contemporaneità un'eccezione ulteriore che prima citava Walter è Ribelli in fuga Ribelli in fuga che è questo libro di Tommaso Percivale che è uscito l'anno scorso e esula proprio dall'elenco che abbiamo fatto finora perché in realtà ci racconta sì di un gruppo di ragazzi ma anche qui torniamo in un'epoca passata perché è una storia ambientata prima nel 26 poi successivamente c'è un salto temporale agli anni 40 e qui ci viene raccontato di un gruppo scout che appunto viene sciolto per ordini superiori ordini fascisti ovviamente e agli scout si sostituisce l'opera nazionale Balilla e qui ovviamente ci saranno le avventure di questo gruppo di ragazzi però diciamo che in qualche modo questo è un'eccezione è un libro che fa abbastanza cioè che costituisce un'eccezione perché come abbiamo visto in realtà le bande di ragazzi sono sempre più assenti No, è i ragazzi della via qua Bene Io direi se avete delle domande delle curiosità delle suggestioni se ascoltando queste cose vi è venuto in mente qualcos'altro andiamo magari Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti